Un comando armato ha crivellato di colpi la sua auto. Negli ultimi mesi era stato minacciato di morte per la sua battaglia e per la grazia di Asia Divi. La cristiana ha condenato a morte nel 2009 in Barcelona e nessuno lo aspetta. C'è un report basket NBA in attesa di sbarcare a Londra per disputare le prime gare di regola a season in Europa. Toroto supera 96 a 90 in un mese. Termi italiano con pariani da una parte e per i nevi dall'altra. Per il mago 14 punti, 13 per i pei. Nella notte è arrivato anche il primo K.O. per New York dopo la rivolta di Carmelo Anthony. A Orlando i Lix hanno perso 116 a 100. Chiediamo con il calcio, si gioca questa sera il posticipo della 29esima giornata di Serie B. Capolista Talabin, Alborino contro i Granata, staccati in classifica di 14 punti. Ieri sera insieme ha raggiunto i testa italiana, grazie al successo del 1-0. Buon tempo contro il 3-0. In redazione andrà a sesso Alessandro Grisco, una buona giornata. Amore, adesso che faccio? Gira destra giusto? La vuole, la vuole, la vuole, la vuole. E il filo, il filo, il filo. Nel filo, senti per tu, possono diventare impagni? Sì, se vi impagnerò un siano di giocano e con i regolatori tieni sotto controllo l'intensità del profumo del il colato. Ciao, sono Caterina, oggi la mia prima licea è a casa da scuola, con l'influenza in giro c'è la metaclassa, l'inverno rigide è fondamentale, io uso nuova acigilizzante in tutta la casa, ed essa è pulisci al conto, rimuovendo già le materie, domani è lì se non avrebbe febbre, la scuola è finata, nuova acigilizzante, il genere che vi piace anche l'inverno. Complicità, è il momento di cambiare, otto i tuoi risparmi in che banca, il conto deposito ti danno un doppio vantaggio, 2,50% sulle somme depositate per un anno e in più gli interessi in anticipo, la condizione di vantaggio è un'altra cosa, 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 è un'altra cosa.